Tutto pronto quindi Aleph per questo appuntamento? C'era stato solo un precedente nella storia e poi ce n'era uno più famoso a Bergamo. Come mai innanzitutto avete voluto proporre il Shop Box Rally? Allora, diciamo che l'ultima gara che è avvenuta qua a Aleph è stata dieci anni fa ed è stato l'International Shop Box Rally dove abbiamo avuto ospite un'emittente televisiva nipponica. Dopodiché diciamo che a Aleph c'è una grande tradizione di queste macchinine. La prima gara a Aleph si è svolta addirittura nel 1988 ed è stata organizzata da Gian Battista Pezzoli, mio nonno. Da allora le è sempre organizzate fino ai primi anni del 2000. Dopodiché anche lui per stanchezza vecchiaia ha smesso e quest'anno l'Effe Giovani ha deciso di riproporre questa iniziativa visto che dieci anni che non si fa, un'attività nuova, diversa dal solito che ha sempre attirato parecchia gente, parecchio pubblico e per questo è stato deciso di riproporlo. Una manifestazione diversa dagli soliti standard di Leffe Giovani. Quindi maggior ragione è dedicare anche al nonno questa impresa da parte dei giovani e riproporre questa manifestazione. Esattamente, siamo contenti anche noi della famiglia che c'è stato questo pensiero e speriamo che molti giovani che parteciperanno si invoglieranno a voler costruire e partecipare anche alle future gare delle softbox per continuare questa tradizione. Presentaci un po' come sarà la giornata. La giornata comincerà alle 10 di mattina dove i vari mezzi, chiamiamoli così verranno posizionati ed esposti nella piazza della Libertà di Leffe verrà fatta la punzonatura, quindi la verifica delle macchinine che siano tutte quante a norma perché c'è comunque un severo regolamento che ne prevede la costruzione. Dopodiché la prima manche, quindi la prima discesa, sarà alle ore 2.30 una discesa libera, quindi pura velocità mentre la seconda discesa sarà alle 4 e prevederà l'aggiunta di ostacoli quindi salti, schiume, muri di fumo che aumenteranno di sicuro l'esibizione. Al termine, non finisce qua, ma ci sarà un terzo tempo musicale gestito dove suoneranno il gruppo I Torridi e servizio bar che sarà attivo per tutta la giornata. Il pubblico dove si potrà mettere? Il pubblico si potrà mettere ovunque lungo il percorso ci saranno delle postazioni apposite, messe in sicurezza dove potranno vedere la manifestazione punti migliori dove posizionarsi sono ovviamente dove ci sono gli ostacoli e le curve più pericolose adrenaliniche.